Da lunedì scatta la zona gialla. Le superiori presenze al 70%, riaprono ristoranti all'aperto e anche cinema, musei e teatri. Vaccini ai settantenni, Gianni annuncia dalla prossima settimana, portale delle prenotazioni sempre aperto. Docente di religione del Marconi, ammesso agli ordini sacri, il rito nell'aula magna della scuola, la presenza del vescovo e degli studenti. Stasera su TV Prato in onda il documentario Prato 44, dedicato agli scioperi e alle deportazioni nel marzo 44. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di TV Prato, lo avete sentito dai titoli, lunedì la Toscana e anche Prato torneranno in zona gialla e dunque cambieranno le regole che disciplinano la nostra vita a partire da scuola, socialità, ma riapriranno anche i musei, i cinema e i teatri. Vediamo nel dettaglio che cosa è destinato a cambiare da lunedì mattina. Il 26 aprile sarà una data spartiacque, il giorno in cui molte attività che hanno subito restrizioni pesanti o sono state chiuse per mesi potranno tornare ad una parziale normalità. I provvedimenti decisi dal governo saranno validi per tutte le zone in fascia gialla. I ristoranti potranno tornare a servire pasti ai tavoli, sia a pranzo che a cena, ma esclusivamente all'aperto e per ora con il limite fissato alle 22. Al tavolo si potrà stare al massimo in quattro se non si è conviventi. Tra regioni gialle ci si potrà spostare liberamente, senza bisogno di autocertificazione, che servirà invece per spostarsi tra regioni rosse o arancioni per lavoro, salute o urgenza. Gli spostamenti per turismo in zone rosse e arancioni si potranno effettuare col pass per i vaccinati, guariti dal covid o con tampone negativo nell'arco di 48 ore. Dal 26 aprile al 15 giugno in zona gialla si potrà fare visita ad amici e parenti una volta al giorno. Ci si potrà muovere in quattro oltre ai minori dalle 5 alle 22. Il 26 aprile riaprono anche musei, cinema e teatri. Per questi ultimi ci saranno posti distanziati e capienza ridotta del 50%, con un massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e 500 al chiuso. Si potrà tornare anche a fare sport di squadra e contatto, come il calcio a 5, con l'unica limitazione legata all'uso degli spogliatoi. La doccia si dovrà fare a casa. Dal 15 maggio il secondo step, con la riapertura delle piscine per il pubblico, ma solo all'aperto, degli stabilimenti balneari con ombrelloni e lettini distanziati. Riapriranno anche i negozi all'interno dei centri commerciali nel weekend. Dal primo giugno potranno riaprire le palestre, ma sempre con alcune limitazioni. I ristoranti potranno tornare a servire anche al chiuso, anche se per ora solo a pranzo. Dal primo luglio, infine, via libera, fiere, congressi e terme. E adesso il bollettino del contagio. I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 886, in diminuzione rispetto ai 1.003 casi registrati ieri, due giorni ieri e oggi, nei quali il numero dei tamponi e dei test rapidi è stato pressoché identico. Il tasso dei nuovi positivi complessivo nelle ultime 24 ore è del 3,4%, un dato che sale al 10,2% se si considerano soltanto le prime diagnosi. L'anticipazione del bollettino odierno è stata resa nota sui social dal governatore della regione, Eugenio Giani. Stasera, come di consueto, vi daremo conto anche dei dati provinciali. Continuiamo a parlare della vaccinazione e di sanità. Per quanto riguarda i vaccini ai settantenni, dalla prossima settimana il canale di prenotazione sul portale della regione sarà sempre aperto. Basta corse a prenotarsi, assicura il presidente della regione Giani, che aggiunge, grazie alle nuove forniture Johnson & Johnson, siamo in grado di programmare meglio la campagna vaccinale. Dalla prossima settimana rimarrà sempre aperto il portale per prenotare le sedute vaccinali per la fascia di età, compresa tra i 70 e i 79 anni. Lo ha detto stamani il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Basta con le corse a prenotarsi, ha aggiunto Giani, ora è possibile un cambio di passo nel sistema delle prenotazioni online, perché, ha motivato il governatore, abbiamo maggiori certezze sull'approvvigionamento delle dosi. Ieri pomeriggio, dopo giorni di chiusura, era stato riaperto, sempre sul portale regionale Prenota Vaccino, il canale delle prenotazioni per i settantenni. Per la prima volta, dopo le polemiche sulla scarsa trasparenza, la regione aveva preannunciato in anticipo l'orario della riapertura delle prenotazioni, ma anche questa volta i pochi appuntamenti disponibili sono andati esauriti in pochi minuti. Dalla settimana prossima cambia tutto, ha spiegato il presidente Giani, perché sia Pfizer, che useremo per i 70-79 anni, che Johnson & Johnson ci assicurano regolarità nelle forniture. Possiamo insomma pianificare, ha detto il governatore, tutti gli appartenenti a questa categoria, ha aggiunto, avranno un appuntamento, chi prima, chi dopo, ma almeno chiudiamo il capitolo della corsa a prenotarsi. Giani ha spiegato che il metodo usato sinora era un sistema di fatto obbligato a causa della discontinuità delle forniture da parte di AstraZeneca. Multe per inosservanza delle norme anti-covid sono state elevate ad un kebab nella zona est di Prato da parte dei carabinieri, impegnati nella verifica del rispetto degli orari di apertura dei protocolli anticontagio, ma anche del rispetto dei contratti di lavoro in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro. Nello stesso kebab sono stati trovati due lavoratori a nero, irregolari in Italia. Pertanto entrambi sono stati denunciati per violazioni delle leggi sull'immigrazione assieme al titolare dell'attività che ha subito anche la temporanea chiusura del locale. Cambiamo argomento. Questa mattina Alessandro Ventura, 33enne, docente di religione, ha vissuto il rito della missione agli ordini sacri, il passo col quale si chiede ufficialmente alla Chiesa e al Vescovo di intraprendere il cammino di formazione al sacerdozio e lo ha fatto con una modalità del tutto inedita nell'aula magna dell'Istituto Marconi davanti al Vescovo Giovanni Nerbini e circondato dall'affetto di alcuni dei suoi studenti e colleghi nell'ambito di un incontro con i ragazzi tenuto dal presule e dedicato proprio all'importanza delle scelte. La vocazione di Ventura è infatti maturata nella scuola ed è stato proprio qui, tra i suoi studenti, che ha iniziato il cammino per diventare sacerdote. Coraggio, desiderio, novità, ecco le coordinate di una scelta e di una vocazione, ha detto Ventura. E stasera appuntamento su TV Prato, alla vigilia del 25 aprile, anniversario della liberazione nazifascista, con il documentario Prato 44, dedicato agli scioperi e alle deportazioni nei campi di concentramento avvenuti nel marzo del 1944. Ce ne parla Arianna Di Rubba. Alla vigilia, nel giorno della festa della liberazione, su TV Prato, andrà in onda Prato 44, il documentario realizzato dal collettivo Metro Popolare, in ricordo degli scioperi e delle deportazioni nei campi di concentramento avvenuti nella nostra città nel marzo del 1944. L'appuntamento è dunque per questa sera alle 21.50 e per domani, domenica 25 aprile, alle 13 su questo canale e in streaming su tvprato.it. Prato 44, pensato inizialmente come performance teatrale itinerante per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e trasformato poi appunto in documentario alla luce delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria, è un video che ripercorre, partendo dalla ricerca delle pietre d'inciampo incastonate nella pavimentazione di strade e piazze della città, una pagina drammatica della nostra storia, l'arresto e la deportazione nel campo di concentramento di Mauthausen di 132 persone, di cui solo 18 fecero ritorno. Nel documentario, il collettivo Metro Popolare guida i giovani spettatori in questo percorso per Prato, raccogliando interviste tra i cittadini e testimonianze importanti. Si parte da quella del sindaco Biffoni, che racconta il progetto delle pietre d'inciampo, a Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, che ripercorre invece il contesto storico in cui si sono svolti gli scioperi e la tragica storia delle deportazioni. Il presidente dell'ANED, sezione di Prato, Giancarlo Biagini, racconta invece la storia di suo padre, perduto all'età di 13 anni, partito una mattina per andare a lavorare e poi arrestato. La giovane Bianca Camiola ha ricostruito la storia del bisnonno a cui è dedicato una pietra d'inciampo. E infine Caterina Santi, docente della scuola Leonetto Tintori, spiega il progetto delle mattonelle d'inciampo per far ricordare ogni giorno agli studenti che frequentano la scuola cos'è successo nella loro città. L'appuntamento dunque è comprato a 44 e per questa sera alle 21.50 e per domani alle 13. Sport, calcio e il campionato di Serie D, Girone D si ferma per consentire i recuperi delle tante partite rinviate per l'emergenza Covid. Facciamo dunque il punto sulla situazione in Casa Prato con l'intervista al difensore Elia Giampà. Turno di stop del campionato di Serie D, Girone D per consentire il recupero delle tante partite rinviate per l'emergenza Covid. Il Prato ha ripreso ad allenarsi al campo sportivo Adonelli di Montemurlo con l'intento di scrollarsi di dosso l'ultimo periodo negativo. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Adesso stiamo lavorando per riparare gli errori fatti e per riaggiustare questo nostro campionato che non è assolutamente finito e a cui possiamo dare un senso vincendo le prossime partite e cercando di lottarci un posto per i play-off cosa che potrebbe farci riprendere il campionato. Siamo fermi noi, giochiamo settimana prossima e stiamo lavorando duro sul campo per farci trovare pronti per la partita con la Correggese. C'è stata involuzione di questa squadra più che altro nelle ultime 7-8 partite a cosa è dovuta? Io penso sia dovuto a un errore nella reazione abbiamo sbagliato la reazione a determinate sconfitte determinati risultati anche troppo pesanti per quello che avevamo fatto e prodotto quindi penso che dobbiamo lavorare su questa reazione e credo che ce la faremo ma ripeto, dobbiamo dare un senso a questo campionato e dobbiamo vincere le prossime partite. Mister Firicano nel dopogara con il Sassomarconi ha detto guardiamoci le case di spalle che è meglio, altro che play-off. Sei d'accordo? Sì, perché la mentalità deve essere quella deve essere la mentalità di una squadra che lotta su ogni pallone lotta su ogni contrasto perché adesso la classifica dice questo quindi è giusto guardarci dietro però ripeto, io sono ottimista nonostante tutto e penso che un posto nei play-off possiamo lottarcelo e dobbiamo lottarcelo lo dobbiamo alla città, alla tifoseria e anche al presidente che c'è sempre vicino nonostante tutto. Sette partite al termine della stagione che la squadra laniera cercherà di interpretare con la massima applicazione per cercare quantomeno di salvare l'onore per la promozione e la zona play-off invece occorrerà ripassare la prossima stagione. E con questo è tutto l'informazione di TV Prato torna stasera con il telegiornale delle 20 e 30 continuate a seguirci anche sul nostro sito tvprato.it vi ricordiamo alle ore 17 e 30 in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa prefestiva grazie dell'attenzione buon pomeriggio grazie a tutti